Questo libro, questa opera in forma di libro, è composto da 90 opere, ogni doppia pagina è un'opera, composta da un'immagine e da alcune parole. Le parole sono appunti, sono frasi estrapolate da altri testi. Viene sempre spontaneo, quando si parla, a chiedermi, ma i testi sono tuoi? Che siano miei, che siano tuoi, che siano di un altro, che siano effettivamente miei, perché una pagina così non la troverai mai scritta da nessun'altra parte. L'importante è che queste parole, queste frasi messe insieme creano dei corticircuiti, creano dei significati aperti. Non sarà possibile dare un unico significato, un unico senso a un'opera, a una doppia pagina.